Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del giorno su Fano TV TV canale 17, oggi è il 30 di settembre, siamo già arrivati a giovedì, fine della settimana quasi, ma siamo già arrivati in fondo a questo mese che è volato via e siamo qui per commentare i giornali che abbiamo come sempre selezionato, le pagine che abbiamo selezionato per voi questa mattina e lo faremo tra poco dopo il santo e il tempo. Il santo di oggi, lo vediamo subito, è San Girolamo Chi ignora le scritture ignora Cristo. L'alba alle 7.04 e il tramonto alle 18.52. Adesso uno sguardo al tempo. Allora, questo è il bollettino della protezione civile delle Marche che per questa mattina direi prevede rovesci sparsi più probabili appunto, sì, nella mattinata lungo la costa stanno già arrivando, ho guardato il radar qualche secondo fa prima della diretta, in effetti qualche precipitazione si sta avvicinando da nord, è già sul mare, sta arrivando verso la costa e dalla tarda mattinata al pomeriggio nelle zone collinarie e montane, quindi a zone interne. Vediamo domani, domani cielo sereno, poco nuvoloso sabato invece 2 ottobre ancora pioggia, soprattutto nell'entroterra, instabilità anche nella giornata di domenica nelle zone interne. Andiamo a vedere subito i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, direzione di Pesero, il titolo, la rivolta dei dipendenti comunali i dipendenti sono i dipendenti del comune di Pesero, c'è stata un'assemblea del personale, si dicono molti offesi dal sindaco Ricci su quella butarda, su quella uscita che ha fatto il sindaco Ricci qualche tempo fa, nel quale accusava i dipendenti di calo di produttività ma in realtà loro rispondono, il calo è dovuto alla mancanza di personale, agli organici ridotti. Diversi servizi e settori sono in affanno all'interno del comune di Pesero, poi c'è la questione del green pass e anche dei tamponi li vorrebbero gratuiti e dunque c'è il pressing dei sindacati. Poi centropagine invece la fotografia della nuova sede di Eden Viaggi sempre a Pesero, nuovo target, la ripartenza appunto dei viaggi e poi minacciata dall'ex, alcune brevi di cronaca sulla prima del Corriere minacciata dall'ex e costretta a subire rapporti sessuali, poi infila la cassa, aggredisce un agente, gli rompe il naso e un amministratore, afano ed evasore fiscale, scatta il sequestro. Ricci Regione invece, il duello su muraglia parliamo sempre di sanità, siamo al braccio di ferro, nuovo ospedale, il sindaco ribadisce la linea, la politica urbanistica aspetta, dice Ricci al Comune. Mentre affano la questione della viabilità, dei lavori, dei soldi che andranno destinati appunto a queste cose, rotonda per esempio la rotonda al Codma di Rosciano dove c'è stato recentemente anche un incidente mortale e poi autovelox potenziati. Il Carlino, l'apertura ospedale, i patti, la fotonotizia vanno rispettati. È il sindaco Ricci che parla e rilancia con Ancona, muraglia, unica soluzione, Acquaroli, dice Ricci, sapeva. Fotoard, sesso e soldi condannato, conosce una diciassettenne sui social, consuma notti di fuoco e la paga, quattro anni per il reato di prostituzione minorile. Poi c'è stata un'assemblea in provincia sullo smart working, cioè il lavoro da casa. Il lavoro da casa ci ha offeso la rivolta dei dipendenti comunali, sindaco, altro che fannullone. Qui siamo sotto organico. Poi sulla project financing in archivio, la Renco batte cassa con la Regione, sempre sulla questione dell'ospedale unico. La Regione che vuole fare questo ospedale, non unico per Pesero e Fanno, ma solo per Pesero, ha case bruciate, lo ricordiamo, mentre Matteo Ricci continua la sua battaglia dicendo no, l'ospedale deve essere fatto a muraglia, punto e basta. Queste sono le condizioni. Poi torniamo sempre sulla prima del Carlino. Alla Baia, all'oasi delle tartarughe, le curiamo poi di nuovo in mare, è stato presentato il progetto. Poi un imprenditore del settore edile, altra bancarotta per concetti, chiesto il rinvio a giudizio e sotto invece oltre 3.000 abitanti senza un medico di base, accade a San Lorenzo in campo e poi Eden Viaggi, nuova sede, trasferimenti evitati, sollievo per 300 lavoratori. Ma c'è anche la questione del pala campanara. Pizza molla il pala campanara, dunque gli allenamenti li faremo a Fanno, tolta anche l'intitolazione. Chaos Green Pass, sale la rabbia, titolo a pagina 4 del Carlino di oggi. Sale la rabbia in comune, le incognite sulle modalità di verifica dei certificati e non solo accrescono i conflitti. Le esternazioni del sindaco dicono non aiutano. Il Sassolino ad oggi solo il 15% lavora da casa, lo smart working non va demonizzato. Sempre dall'assemblea non dite che siamo fannulloni, la verità è che manca il personale. Enorme carenza anche nel settore della Polizia Municipale, della Polizia Locale. Nella pagina invece regionale del resto del Carlino, la questione degli ospedali unici. Marche, la Regione, cancella gli ospedali unici. La rivoluzione sanità finisce a carte bollate. Tensione per il progetto incompiuto del nosocomio Pesaro-Fano, della vecchia giunta, quindi la giunta Ceriscioli, che vedete in questa foto a destra rispetto ad Acquaroli. Scende in campo l'azienda coordinatrice, non proseguire è irragionevole e dannoso ed espone a responsabilità di natura erariale. Ci tuteleremo in tutte le sedi. Così si rischia di perdere il finanziamento statale, a rimetterci saranno i cittadini. Scordatevi case bruciate, invece il titolo del Corriere Adriatico, sempre sulla questione dell'ospedale, niente varianti e permessi. D'altra parte in questo caso il Sindaco di Pesaro ha il coltello, come si dice, dalla parte del manico, perché anche se la Regione decidesse di andare a case bruciate, poi è il Comune che deve autorizzare, che deve dare i permessi, varianti, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa prova di forza tra il Sindaco Ricci e la Regione per il sito del nuovo ospedale. L'urbanistica è compito del Comune. Muraglia Acquaroli dice rispetti. Su Muraglia dice Acquaroli rispetti i patti. Dunque si faccia lì l'ospedale senza se e senza ma. Mentre sotto medici di base c'è chi è agli sgoccioli. San Lorenzo resterà senza medico di base tra un mese. Andiamo un attimo a Recanati, perché parlando di lavoro, Iguzzini annuncia 103 licenze licenziamenti sindacati in rivolta. In agosto la storica famiglia aveva lasciato ogni incarico in azienda. Dunque è un fulmine a ciel sereno la lettera che è giunta in questi giorni alle organizzazioni sindacali territoriali e all'assessorato regionale alle politiche del lavoro, con la quale la Iguzzini, appunto, Illuminazione di Recanati annuncia l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo di 103 suoi dipendenti, di cui 82 nel settore impiegatizio e il resto fra gli operai. L'avventura con la ragazzina gli costa cara, titolo del Carlino a pagina 7, ancora la cronaca, da Pesaro. Condanna 4 anni per prostituzione minorile. Un 45enne consuma in hotel due notti di fuoco con una 17enne conosciuta su internet, sui social, poi però la paga e dunque scatta il grave reato. Lui è un 45enne di Bari, lei invece è una ragazzina minorenne di Pesaro. Minacce, violenze sessuali e insulti alla moglie, alla sbarra invece un commerciante 47enne pesarese. Un'altra notizia che troverete sul giornale di questa mattina in edicola, la donna tutelata dall'associazione Gens Nova. Andiamo adesso invece sulla pagina 20 del Corriere Adriatico per i titoli di questa altra notizia che riguarda invece la Guardia di Finanza. Evasione fiscale ingente sequestro, il titolo pignorati abitazioni e denaro per 460 mila euro al rappresentante di una ditta di costruzioni. La segnalazione all'autorità giudiziaria era partita dal mancato versamento dell'IVA nel 2016, mentre SPID per avere i buoni spesa il bando è discriminante secondo Lucia Tarsi, capogruppo consigliare di Fratelli d'Italia, che se la prende con questo bando che per erogare i buoni spesa obbliga all'uso dello SPID. Questa è la notizia sulla pagina di Fano, dove tra l'altro di taglio basso si parla di un argomento sempre molto caro ai fanesi, ma che riguarda le strade, la situazione delle strade e le nuove asfaltature. L'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli, che vedete in questa fotografia, ha presentato il nuovo piano degli asfalti per la città di Fano. Qui in questo articolo, in questa pagina, troverete tutte le strade interessate. Sono stati approvati dalla Giunta i lavori che dureranno per tutto il prossimo anno. E sempre a proposito di lavori su Fano, la pagina del Corriere, la pagina di Fano, rotatori al Codma e nuovi autovelox, mentre Zengarini fuori dalla maxi variazione, la modifica di bilancio per 7 milioni di euro passa a maggioranza, ma tra le polemiche, fondi impiegati per le strade. E in questi 7 milioni di euro c'è rientrato un po' di tutto. È stata una variazione considerevole dato che è stata finanziata appunto con 7 milioni di euro tratti dall'avanzo di bilancio, lasciandone nella voce contabile ancora 4. La delibera è stata approvata a maggioranza con 7 voti contrari e un astenuto. Sulla ciclabile del Metauro è finita nel Mirino, seria ribadito che il Comune può agire in autonomia. Sulla caserma dei Vigili del Fuoco finita entro giugno, l'impegno preso da serie, i lavori al via per la fine di ottobre, gli ostacoli sono finiti e dunque questa famosa nuova caserma dei Vigili del Fuoco, tra pochi giorni dovrebbero iniziare appunto i lavori, costo 1 milione e 700 mila euro coperti dal Ministero dell'Interno e dunque vedremo insomma se poi questi ostacoli saranno davvero finiti e quindi verrà la luce il prossimo anno questa nuova caserma che è necessaria oltretutto. Buche, la cura del bitume ma non prima di sei mesi, questa è la pagina invece di Fano del Carlino di oggi, dopo le proteste per i ritardi il Comune prepara un piano di asfalti da 4 milioni di euro su numerose vie cittadine, peccato che si dovrà però aspettare ancora. Beh, chiaro che qui c'è il fattore tempo, d'inverno non si asfalta mai e quindi bisognerà aspettare probabilmente la prossima primavera. L'assessore Tonelli dice diamo una risposta ad aree periferiche che avranno collegamenti più funzionali. E ancora sempre dal giornale andiamo a vedere la pagina 16 dove c'è la cronaca, chiavi di casa all'amica ma lei le ruba il bancomat, la donna ha prelevato 1.400 euro finché non è stata presa con le mani nel sacco dai proprietari, ha patteggiato un anno e poi restituito il maltolto, l'anziana le aveva concesso la possibilità di entrare nell'abitazione solo però in caso di necessità. Quindi si fedava della vicina di casa una pensionata di 86 anni di Fano che sta in via Soncino nel quartiere appunto di Sant'Orso che aveva dato le chiavi di casa a questa signora quarantenne la quale è sempre molto gentile però evidentemente una gentilezza che non è stata ripagata ed è andata così. Andiamo sulla pagina di Fossombrone dal Corriere Adriatico hanno violato l'area archeologica estranei messi in fuga da Calmazzo la zona evidenziata da Italia Nostra al sindaco e alla sovrintendenza, l'allarme grave degrado la risposta è già tutto a posto, gli elementi di pregio sono nei depositi. Mentre sotto Fano città che pedala, a Tonelli si può e si deve fare di più. Mentre in via della giustizia sempre a Fano, terrapieno, crolla dopo la pioggia, non ha resistito dunque al temporale. Da Pesaro aiutiamo 72 famiglie donando cibo ma non avremo più la sede e né il deposito. Finora senza esito l'appello del fondatore Mario Di Palma della Onlus braccia aperte ma il tempo stringe. Sotto infila la cassa, sfera un pugno e rompe il naso ad un agente, paura all'ora di chiusura al market, l'aggressore soffre di disturbi psichici, era alla cassa e quindi a un certo punto è uno sconosciuto, gli sfera un cazzotto in faccia rompendogli il naso. è successo nel tardo pomeriggio di martedì verso l'ora di chiusura all'interno del supermercato Eurospin di Pesaro. Adesso la pagina di Senigallia invece dal resto del Carlino, animali sbranati dai lupi e degrado, questo è il titolo, aiutateci a Bettolelle, allarme tra i residenti, quattro pecore uccise, temiamo anzi per i nostri bambini, intervenite prima che accada l'irreparabile, via i lavori di manutenzione ordinaria del fiume per 130 mila euro. Invece la pagina 20 di Senigallia, Don Giancarlo Giordano festa per i 50 anni, Giuliani è stato direttore della Caritas e Parco di Roncitelli, storico traguardo anche per Stefanini, cappellano dell'ospedale. Allora a questo punto l'ultima pagina che dedichiamo al nostro commento alla stampa è la pagina 9 del Corriere Adriatico dove, pagina 9, si torna su quello che ho detto ieri qui in rassegna stampa, la notizia che pubblica il Corriere questa mattina è questa, un gazebo per il direttore di Fanu TV finito nel mirino dell'ordine dei medici. Voi sapete che dal 15 ottobre scatta l'obbligo del Green Pass per milioni di lavoratori, tra cui anche il sottoscritto e quindi quello che ho detto ieri praticamente viene ribadito sul giornale di questa mattina, dal 15 ottobre scrive il giornale farà allestire un gazebo all'aperto fuori dagli studi televisivi. Marco Ferri, direttore di Fanu TV, finito nel mirino dell'ordine dei medici che ha inviato una segnalazione alla Prefettura e all'ordine dei giornalisti per accertare se il suo comportamento violi le regole deontologiche della professione spingendosi al di là della cosiddetta disobbedienza civile per sconfinare andando contro alla legge. Allora intanto diciamo subito che non è possibile mettere un gazebo fuori dagli studi televisivi di Fanu TV perché semplicemente è un parcheggio privato e di conseguenza è giusto che anche chiedendo un permesso che non si occupi lo spazio anche perché ci sono gli altri, tra l'altro i nostri vicini sono proprio quelli dell'Asur, quindi figuriamoci, non sarà qui fuori dagli studi, sarà in un altro posto, non è necessario neanche specificare dove, però sarò fuori, questo sì perché dal 15 ottobre quando entrerà in vigore il Green Pass, questo Green Pass allargato, lavorerò in esterno fuori dallo studio all'estendo appunto un gazebo all'aperto da cui potrò condurre sia la resegna stampa del mattino sia il telegiornale quando è il mio turno. Sono coerente, e questo mi piace sottolinearlo così ribadisco il concetto poi lo chiudo subito, sono coerente con il mio pensiero ma non ho mai invitato nessun altro a fare il vaccino, a non fare il vaccino, quindi sono coerente con il mio pensiero ma non ho mai invitato nessuno, nessun altro a non fare il vaccino, quindi non l'ho mai detto, non mi reputo neanche un no vax, bensì sono per la libertà individuale e respingo qualsiasi obbligatorietà, questo è quello che scrive il giornale questa mattina. Allora prima di salutarvi poi vi leggo semplicemente anche perché la rassegna è finita, quindi chi vuol cambiare il canale non vuol sentire le mie prediche lo può fare senza che poi si mette lì a perdere tempo a mandare gli insulti, hai parlato di te per 20 minuti, vergognati. Ora la rassegna è finita, tra un po' ce l'ha messa, quindi se volete cambiate pure il canale, io parlo a coloro che hanno voglia di ascoltarmi un altro minutino, solo per dire grazie, ma veramente grazie di cuore perché ieri siamo tutti quanti, io stesso sono rimasto meravigliato dell'affetto enorme che avete dimostrato e quindi della vicinanza, questo mi ha dato molta speranza soprattutto, quindi un grazie grande 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 grande. Che posso dire? Niente, dico semplicemente restiamo uniti perché divisi si perde, quindi restiamo uniti, facciamo in modo che l'amore vinca sull'odio, di odio ne abbiamo tanto attorno, basta uscire di casa e ce ne rendiamo conto e quindi restiamo uniti e la verità vincerà sulla menzogna, questo sicuramente, quando ci vorrà del tempo, quindi bisognerà solo avere un po' di pazienza. Intanto voglio concludere con una mail che mi è arrivata questa mattina e che credo tra le tantissime bellissime che sono arrivate, che mi avete scritto, c'è questa che credo sia importante. Allora sentite che cosa scrive Ernesto, siamo molto diversi, riferendosi a lui, a me e a lui, quindi Ernesto e Marco Ferri siamo due persone completamente diverse, siamo molto diversi, io sono un convinto anticlericale, lei è un devoto servitore della Chiesa, io ho le mie convinzioni, lei le sue, ed è giusto così. Poter esprimere le proprie opinioni, giuste o sbagliate che siano, è sinonimo di libertà, quella libertà che i nostri nonni e padri hanno conquistato sacrificando la vita. Il fascismo non si identifica con un colore o un simbolo, ma con l'imporre le proprie regole e convinzioni. Lei ha avuto il coraggio nell'esprimere le sue opinioni pubblicamente e questo le fa onore. Ha tutto il mio rispetto e la mia stima. Ernesto. E questo credo che sia, che racchiuda bene un po' tutto quanto anche il mio pensiero. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.